Buongiorno, grazie, grazie di essere qui con me. Oggi sono a casa dell'università e quindi ho pensato di farti vedere qual è la mia mattina tipo quando sono a casa. Cioè svegliarsi e subito lavare il viso per poi applicare il tonico a un clima trattante e in questo caso anche poi vedrai una clima da applicare direttamente sulle imprefezioni. Poi faccio colazione e quindi mi butto subito sullo studio o eventualmente leggo in questo caso. Comunque mi sono buttata subito sullo studio e poi ho letto e quindi mi vedrai preparare il pranzo una mattina molto tranquilla. Forse un po' monotona dal punto di vista esterno ma la bella è stata tantissima. Grazie a tutti. 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 di foscolo e di sepolcro, dobbiamo fare la paraphrasi completa, completto, completto, una lettera, anche le note, e la lettera, un circolo. La metodica è prendere un caro, un po' vecchio, un quaderno, e metterle a sinistra nelle pagine. La paraphrasi è, sull'alto destro della pagina, il commetto, eventuali annotazioni, e prima faccio tutto a matita, poi come mi vedrai far qui, ricalco con la penna e faccio eventuali sottolineature e ridenziazioni che mi facciano capire meglio i collegamenti fra le parti del testo o le annotazioni a destra. Questo perché prima, per evitare extravagioni, prima di ricalcare a penna, voglio essere sicura che debbiamo di aver scritto cose sensate, insomma, magari non perfette, ma comunque sensate. E nello specifico, in questa parte, io sono arrivata da parte dei versi 151 a 100, 225, e pensavo di leggerle giusto per non farti guardare una persona che studia, senza, ovviamente, minimo di idea di cosa stia facendo. Allora, la iglesia e i cosi, i fratelli, li facendono, all'urne dei forti, ovvi dei monti, e belle santa fanno per lì la terra che le accetta. Io conto il monumento, vedi, io mi poso al corpo di qualcuno grande, che ti prendo lasciato la regnetura e l'urne sfrutta, e dalle genti svela di che lacrime grotti, e di che sangue, e l'arca di colui che non voli un pazzo in rovaggio a destino, e di che vide sotto le terre poterli arrodarsi più volte, e il sole e la diaria in moto, onde all'anglo che tanta alla vestese scompro prima le vie del fermamento. Te beata, un grataio, per le felici aure, per le mie di vita, e per la magra. Unita sui giochi, a te versa a pennino, lieta da l'air, tu veste la luna, di lucerempissime due colli, perfette e festanti, e le compaglie popolate di case d'olività. Belle di fiori, alciò il montano incensi, e tu, prima a Firenze, Udivi nel calme, galli l'olino, alchipelli frugiosco, e tu, i cari parenti, e l'idioma desti a quel dolce, di gallio pelabro, che muore in grigianuto, e nudo in Roma, ad un velo cantissimo tornando, lente nel crimpo e nel celeste. Ma più beata, che in un tempio accolte, si abilita le glorie, uniche forze da che le malvietate albi, e la terna onnipotenza dalle umane soldi, armi e sostanze di empatia natale, e padre, e, tranne la memoria, tutto. che ove spiemi di gloria agli animosi intelletti, il volga e dall'Italia, quindi tra i miei auspici. E a questi malmi venne spesso vittorio di spianarsi, il lo dopo dell'uomo, e arrafatto, ove arna più deserto, i campi al cielo desioso, al pirato, e, poiché non lo vivente, ha spettato il volge alla cura cui posava l'ostero, e avea sul volto il pallone della morte e la speranza. Con questi grandi abitadeli, e l'osso fremo la morti padre, ma sì, da quale religiosa pace non me parla, e non te la contrapersi in maratona, ovviate le sacra tombe a suoi prodi. L'avvento grigca e ricca, il navigante che per il gioco al mar sotto l'Ibea, vedea per l'ampio sceltaccio delle balenandelle di cozzanti planti fumar le piene di a favore corlosche. Dalmivele vedea flarve guerrieri cercar la pugna, e allora l'orde notturni silenzio si spandea lungo nei campi di falangi, un tumulto e un suon di tube e un incalzante cavalli con correnti scalpitanti sugli elmi amorbonti, e pianto e dinni, e delle barche le canto, felice te che il regno ha più dei venti. Ippolito, a due venti anni correvi, e sei il piloto di trizzolante, inoltre le sole c'è tanti chi fatti, certo disti suonate le spunto e i liti e la malea, che ha portato alle tè l'armi di Achille sopra la rossa da Iace, a generosi giusto di gloria di spensiere e morte, né se nello studio né favore di regi, al litaco le spogliarli osservava che alla poppa la mingale e il dolce non feci data dagli inferni dei. Poi di solito faccio letture di piacere un po' insomma attività di spago, ma la Jane Austen in Society of Italy, della Giosit, ha intendo un corso di statistica dedicato alle regole degli inglesiastici decorati nei romanzi di Jane Austen e quindi sto a partecipare e sto leggendo tutti i romanzi. Per ora ho letto soltanto di nuovo Ragione e Sentimento e ho letto per la prima volta Persuosione. Tu hai mai letto i romanzi di Jane Austen? Qual è andato perfetto? Quindi in realtà ho letto il disfago, non è tanto il disfago in questo caso, perché è un tasca del bello stagio. Comunque, quindi appunto è un'idea di prendere appunti per questo. Anche se poi di solito in generale ho l'abitudine di prendere appunti sia sui libri che sui fogli a parte. In questo caso uso un quaderno perché non mi ricordo la pratica. e poi ho letto soltanto il primo capitolo dell'articolo dell'articolo dell'articolo. E ancora posso farlo e ti piacerebbe se facessi qualcosa a te maggiusti? ma l'allplay no, non ho l'attrazzatura per quanto riguarda quella cosi però comunque non so, però qualcosa di cattore ti piacerebbe? personalmente poi io amo l'allplay storici, tu cosa ne piaci? allora, il mio video sta per arrivare alla fine e con il pranzo che quindi chiude la mattinata mi sono preparata dei postini, delle bombe, il risultato finale sono più delle bombe di terza che ho sbollettato con all'interno una crema di ceci di quasi hummus non so esattamente quanto sia fedele all'hummus come dovrebbe essere per un peso una crema di ceci che ho fatto un paio di giorni fa, quindi devo farla fare quindi ho fatto questi portini in bombe e poi ho fatto una parla pitola con tonno nel forno poi in realtà mi sono ricordata che avevo il frigo, c'è l'oro un po' bruttino e un hamburger di zucca che si stava per scadere, quindi alla fine in realtà nel pranzo è stato tutto altro ma in quella parte mi sono dimenticata di filmarla e ho deciso che i postini mi saranno lavorare invece o per il mio pranzo di domani perché forse questa sera non lo faccio da fuori quindi comunque insomma le ho cucinate anche nel secondo momento parte del fatto che io non so te ma ho l'abbiamo di dire che quando mi metto a cucinare cerco di preparare il modo possibile ma non è tanto cucinare il giorno una volta sola tanto e poi invece quando arrivo a parte dei posti, l'interno mangio vorrei naturalmente scaldare il cibo non mi piace tanto cucinare e infatti mamma mi prende spesso in giro perché nella signora se abbiamo una domenica sera a provare la cena di domenica e il pranzo di lunedì e qualcosa per la cena di lunedì e se mi scappa magari anche preparo qualcosa che possa andare bene per martedì a pranzo insomma poi il fatto è che soprattutto adesso che ho cominciato all'università mi preparo i pranzi a portarmi per pranzo quindi e torno anche abbastanza tardi la sera comunque quando torno non ho quest'anno voglio di cucinare quindi cerco veramente di fare il più possibile una volta nei limiti chiaramente delle scadenze e del depenimento naturale del cibo per cercare di essere sempre pronta anche perché è prontissimo quando si torna a casa la sera super affamati e invece si deve aspettare ancora per mangiare almeno è una cosa che io non sopporto ho la possibilità di farlo prima quindi approfittiamolo e invece a me cucinare pensando l'altro è solo da mangiare quindi ciò non sopporto ho fatto un spammente Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.